Poi dobbiamo avere la sicurezza che il candidato sindaco abbia il sostegno vero, convinto di tutti quanti, perché non vorrei più vedere quello che abbiamo visto altre volte, la prima volta che il centrodestra si è presentato con Moschietti, la seconda volta con Geremia, la terza volta con Mazzon, la quarta volta con Angelo, che le liste hanno determinato il risultato elettorale, il candidato sindaco si trova un po' di franchi tiratori, pochi o tanti, ecco basta franchi tiratori. Angelo ha bisogno di avere gente che lavora con lui per questo progetto di cambiamento e di rinnovamento, accanto a sé, davanti a sé, ma passatemi il termine, nessuno dietro di sé. Ecco perché questa volta è stato vaccinato, è stato vaccinato, è avvertito, esatto, mi riconosce. Informazione alle 12.30, abbiamo fatto alle 11 la conferenza stampa dedicata alla videoinformazione, chiamiamola, e alle 12.30 invece ripeteremo questa conferenza per la carta stampata, quindi se qualcuno vuole eventualmente venire, probabilmente con la carta stampata ci sarà un maggior dialogo. Quindi vi ringrazio per il momento e magari ci vediamo dopo.